Benvenuti nel mondo degli orologi Puma. Puma è un marchio di fama mondiale che produce abbigliamento, calzature e accessori come orologi. Gli orologi Puma sono caratterizzati da un design sportivo, colorato e alla moda, che richiama lo stile distintivo del marchio. Sono disponibili in una vasta gamma di modelli, ognuno dei quali è pensato per soddisfare le esigenze di diversi stili di vita e attività sportive. Gli orologi Puma presentano molte funzioni utili per lo sport, come cronometri e contatori per la data, la velocità e la distanza percorsa. Puma collabora con atleti e celebrità di fama mondiale per promuovere i suoi prodotti, tra cui gli orologi. Ad esempio, il campione olimpico Usain Bolt ha collaborato con Puma per creare una linea di orologi sportivi. Altri atleti famosi che hanno collaborato con Puma includono il calciatore Neymar Junior e la campionessa di tennis Serena Williams.